Come esercizio numerico immaginate di avere un bastone con due masse attaccate agli estremi Immaginate che il bastone sia collegato con una fibra Questa è una vista laterale e quindi sarà un tendolo a torsione Quindi la vista dall'alto è questa Questo è il vostro bastone Immaginate che questa sia la direzione di equilibrio Cioè il bastone è il bastone Il pendolo a torsione, la fibra non è attorcigliata Quindi questa è la configurazione di equilibrio Nel senso che se voi la tenete con la mano Non sentite nessuno sforzo muscolare particolare Tenete il pendolo fermo, lasciate la presa E lui rimane inquieto Evidentemente la fibra non è attorcigliata Non c'è un momento torsione Poi voi avvicinate Quindi chiamiamo questi oggetti di massa m mt corso, due masse uguali Poi mettiamo dei valori numerici Avvicinate invece a questi corpi Magari avvicinate un altro corpo di massa m grande E simmetricamente un altro corpo di massa m grande E ci sarà una forza di attrazione gravitazionale Tra queste masse Quindi questa massa ci sarà una forza di gravitazione Qua ci sarà una forza di gravitazione Vedete che c'è una coppia di forze Che attorciglierà la fibra La fibra resisterà Perchè mi piace essere attorcigliato Quindi immaginate questo di nuovo L'ho vista sia dall'alto Questa è la direzione originaria della fibra torsione Che viene infatti attorcigliato E quindi l'angolo non è più 0 gradi Ma è attorcigliato di un certo angolo Cioè il pendolo di torsione è deflesso E deviato dalla direzione originaria Di un certo angolo Perchè qua avete appunto un corpo Ma mettiamo dei numeri Mettiamo che la lunghezza del bastone Quindi la lunghezza del bastone Dove posso definirla? La lunghezza del bastone la chiamiamo D Quindi sia di un metro Immaginate che queste massette qua Che possiamo pensare puntiformi Cioè sono piccole Questa sia che so qual è il numero che ho Un metro Un metro Invece questo signore E' una bepia di 100 kg Va bene? E immaginate che questa è la configurazione Della nuovo equilibrio Quindi nuovo equilibrio Quindi nuovo equilibrio Configurazione Nuovo equilibrio Perchè la distanza Silenzio per cortesia Vi sento La distanza tra la massa attaccata al pendolo Si fa parte del pendolo E' il centro della massona Sia di 15 cm Quindi è 0,15 m Mi sento un brusio Siete voi? Silenzio Grazie Quindi La distanza La massetta La massona La distanza La distanza Equilibrio Quindi tra il centro Mi raccomando Tra il centro E la posizione Della massetta Quindi questa la chiamiamo puntiforme Questo ha una sua Visto che è una bella massa Dovete immaginare Comunque Vi mostreremo Che la forza Di gravitazione Che questo signore sente E' come se Tutta questa massa Fosse concentrata al punto Quindi al centro Quindi la distanza Che serve Per calcolare La forza di gravitazione E' la distanza Tra la massa E' il centro Della massona Questo Lo dimostreremo Che dovremmo Vi dato tutto A G Ovviamente Vi lo devo dare E' di 6 E' 6 7 Per 10 Alla meno 11 cosa 11 cosa Ricordate la formula La formula La forma di gravitazione È la g La massa La massa La massa Diviso la distanza Quindi questa roba qui Sono newton Metri quadri Diviso Kilogrammi Al quadrato Quindi questi sono newton A metri quadri Kilogrammi Alla meno 2 Va bene? Calcolate l'angolo Per farlo Mi manca qualcosa No? Cos'è che manca? Informazione sulla fibra Dovete sapere qualcosa sulla fibra Cioè qual'è la costante di torsione della fibra E la costante di torsione della fibra Non ve la do direttamente Ve lo do con un numero E ve lo do con il periodo di oscillazione Cioè prima che voi avvicinate le massone Se voi attorcigliate la fibra Lasciate la presa Lui fa il suo bel moto armonico E vi do il periodo di oscillazione Dove è il numero che mi ero fatto 860 secondi Quindi il periodo di oscillazione Lo scrivo qua Cos'è che ho detto? Te l'ha detto? Non ricordo 860 secondi Quindi Voi avete queste due massette di un etto attaccate all'estremità di un bastone di massa trascurabile lungo un metro La torcigliate con le vostre mani per un attimo Lasciate la presa E cronometrate il tempo che impiega ad andare e tornare Quindi lui impiega 860 secondi La fibra ha una costante torsione molto piccola Chiaramente questo esperimento che ha fatto il signor Cavendish In realtà il suo scopo è determinare G Quindi lui mise masse che erano di 100 kg vicino al pendolo di torsione E osservò l'angolo di deflessione La misurò e quindi determinò G Invece è il contrario Quindi determinò il valore G su un tavolo Ma potete immaginare che l'esperimento è molto difficile Perchè questo ha una fibra molto facilmente attorsierata Una costante di torsione molto piccola E quindi uno deve evitare che magari qualcuno apra la finestra E il vento faccia dondolare il pendolo a torsione Che ci siano vibrazioni che possono far dondolare il pendolo Non certamente per l'effetto della forza di cavità che è molto piccola Ma perchè tutto viene fatto vibrare Perchè c'è magari un treno che passa Allora, come esercizio numerico Ho un po' un riassunto delle cose che dovreste sapere Ma potrei dare uno scritto Quindi questi sono i dati Supponete che voi conosciate già Quindi non stiamo facendo esperimenti Stiamo facendo un'applicazione Supponete già di conoscere G E volete calcolare l'angolo di deflessione Vi ho dato tutto Vi ho dato il periodo di oscillazione del pendolo Prima di avvicinare al massone Avvicinate al massone E osservate che trovo un nuovo angolo di equilibrio Un nuovo angolo di equilibrio Quell'angolo di equilibrio lo ottenete Voglio che lo determinate Ma vedete, osservate che la distanza tra le masse Tra la massetta del pendolo e il centro della massa Che sta avvicinata è di 15 cm Qual è quell'angolo? Un altro esercizio che potrei dare allo scritto Un altro esercizio che può fare Un altro esercizio che potrei dare aiutato Un altro esercizio che potremmo Un altro esercizio che potremmo qual è un altro esercizio? Molto esercizio? Ah, questo ve lo dico dopo, andiamo avanti un po' per il programma Allora, di nuovo scriviamo velocemente le questioni di Maxwell senza essere già da scriverle Le scriviamo in forma differenziale prima Quindi sono 4 equazioni che descrivono come le sorgenti creano campi elettrici e magnetici Poi c'è una quinta equazione che è chiamata la legge di Loretz che dice qual è l'effetto di questi campi elettrici e magnetici su una particella dotata di carica in movimento Quindi come si fanno a creare campi elettrici e magnetici? Ce lo dicono le equazioni di Maxwell Sono 4, prima le scrivo in forma differenziale Perché sono 4? Perché ho due campi vettoriali Il campo elettrico e il campo magnetico E ogni campo vettoriale per dire come è fatto Per descrivere matematicamente come si comporta nello spazio e nel tempo Serve dare il rotore e serve dare la divergenza Il rotore è in qualche modo una misura La misura di come in un punto il campo tende ad avere una circolazione Tende a ruotare E la divergenza è la misura in un punto dello spazio di come il campo diverge Quindi la divergenza del campo elettrico in un punto è la densità di carica in quel punto diviso una costante E che si chiama la costante di elettrica nel vuoto Questo è nel sistema internazionale Quindi Y0 si chiama la costante di elettrica nel vuoto del vuoto Vedete il pedice 0? Poi c'è la divergenza del campo B La divergenza del campo B è sempre 0 La divergenza del campo E dipende da Rho Se Rho è 0 la divergenza è 0 Se Rho è positivo perché avete della carica positiva la divergenza è positiva Porcospino Se Rho è negativa la divergenza è negativa Frecce che entrano Se Rho è uguale a 0 le frecce non hanno una tendenza netta a uscire e entrare Ogni freccia che esce c'è una freccia che entra E viceversa Il campo B ha sempre identicamente divergenza nulla E si dice che è un campo solenoidale Parliamo adesso dei rotori Dove li posso scrivere? Scrivo qua accanto Perché non hanno... Tutti grattano Devo comprarmi anche una scatola di Jesse Bianchi Questa partita di Jesse quest'anno è terribile Anche i miei colleghi si stanno lamentando Il rotore del campo elettrico è meno la derivata parziale del campo B rispetto al tempo Il rotore di B è uguale a mu0 per J Mu0 si chiama... Perché ho scritto qua così poco spazio Mu0 si chiama la permeabilità magnetica di chi? Del vuoto più mu0 e y0 La derivata parziale rispetto al tempo del campo elettrico Queste sono le equazioni di Maxwell Sono 4 Come vedete Sono accoppiate tra di loro Al campo elettrico Interessa quello che fa il campo B Al campo magnetico Interessa quello che fa la E Sono accoppiate In generale lo sono La J si chiama la densità di corrente Ovviamente corrente elettrica Posso risparmiarmi la parola adesso in futuro Questa è la densità volumetrica in questo caso Di carica elettrica Questa qua Adesso la scriviamo in forma integrale Lo posso scrivere La scrivo qua Il flusso Attraverso una superficie chiuse Per il campo elettrico E' uguale a 1 su ε0 Per la carica interna Interna cosa? E' interna alla superficie che è chiusa Quindi la carica interna E' semplicemente l'integrale Di volume di rho Sul volume Che è racchiuso da S Questa è la prima legge Questa si chiama La legge di Gauss Del campo elettrico Questa è la legge di Gauss Questa è chiamata La legge di Faraday-Lenz Neumann Questa è chiamata La legge di Ampere-Maxwell E questo pezzo l'ha aggiunto Maxwell Chiaramente Il flusso Del campo magnetico Del campo B Attraverso una qualsiasi superficie chiusa E' rigorosamente zero La legge di Faraday Si scrive così La circuitazione di E Lungo una qualsiasi curva chiusa E' uguale a meno La derivata rispetto al P Per il flusso del campo magnetico Dove il flusso del campo magnetico E' uguale Per l'appunto Al flusso attraverso la superficie Che è aperta Che si appoggia su C Db Quindi questa roba In generale Sarà funzione del tempo E quindi questa funzione qui Quando la derivata rispetto al tempo Che abbiate il segno Vi da la circuitazione Quindi quando il campo magnetico Non cambia del tempo Immaginate che il campo magnetico Sia identicamente zero Non c'è mai Non c'è il campo magnetico In qualsiasi istante del tempo Il campo magnetico Non c'è Allora vedete Che la circuitazione di C E' uguale a zero Qualora abbiamo qualcosa Invece che cambia il tempo Che il campo magnetico Sta cambiando del tempo Allora la circuitazione Sarà diversa da zero Poi abbiamo la quarta legge Che è la circuitazione Del campo B Lungo una qualsiasi curva chiusa E' uguale a mu zero Per la corrente Chiamiamola così Facciamo conduzione Concatenata Concatenata Più Mu zero Per la corrente Di spostamento Concatenata Concatenata Dove La corrente Di Dove La corrente Di Dove Conduzione Concatenata E' uguale al flusso Della densità di corrente Di spostamento Attraverso quale superficie? Attraverso qualsiasi superficie Che abbia questo C Come orlo Come buco Ditelo come volete Un'espressione che a me E' capitato usare nel passato E' che la superficie S Che ha un buco Si appoggia sulla curva C Nel senso che la curva C E' l'orlo del buco E' la corrente di spostamento Concatenata E invece è Si appoggia Ok Ok Deve essere chiaro che questa equazione scritta in forma differenziale o scritta in forma integrale descrive come costruire, come generare, come fare in modo che in uno spazio ci sia un campo elettrico o un campo magnetico Per creare un campo elettrico avete essenzialmente due modi o avete delle cariche che creeranno un campo elettrico come per la legge di Gauss oppure variate un campo magnetico perché variare un campo magnetico variare un campo magnetico vi crea un campo elettrico Analogamente voi per creare un B avete due modi o prendete delle cariche e le muovete e quello si chiamerà la densità di corrente elettrica, avete dei portatori di carica degli elettroni, dei protoni, degli ioni essendo cariche creeranno certamente un campo elettrico ma se li muovete creeranno un B perché muovendosi sono un J e un J vi creerà un B ma potete creare un B anche anche senza avere cariche in movimento potete creare B anche con un altro tipo di corrente che si chiama corrente di spostamento che di nuovo vi ripeto che il nome è molto infinice perché in realtà non ci sono cariche che si muovono, le cariche che si muovono sono descritte dalla corrente di conduzione. Questo tipo di corrente che genera un campo elettrico è un campo elettrico variabile nel tempo. Va bene, qualche piccola considerazione, il mio collo stamattina fa proprio molto male, facciamo qualche semplice considerazione. Voglio fare qualche conto, qualche esercizio tipico da orale sul calcolo della carica totale o della corrente partendo da densità, immaginate di avere una densità di carica elettrica che a priori dipende da x, y, z quindi voi state dicendo ecco lo spazio x, y, z delle coordinate cartesiane in questo punto dello spazio, voi immaginate che ci sia questo valore di Rho, in un altro punto il valore di Rho è diverso. Allora immaginate che io vi chieda quanta carica c'è in questa distribuzione di carica, prendo della carica elettrica e la distribuiscono allo spazio, a forma magari di questo tubero. Qual è la carica totale che c'è in questa distribuzione di carica? Quello che faccio è di immaginare ogni punto dello spazio e lo circondo con un piccolo cubetto di lego, una piccola scatolina e mi chiedo quanta carica c'è in questa scatolina? Allora in quella scatolina immaginate che la scatolina sia fatta magari appunto di dx, dy, dz, facciamo il disegno, sarà ovviamente difficile, quindi qua sul piano x, y avete la proiezione di questo, questo rappresenta delta y, questo rappresenta delta x, ovviamente l'altezza di questo è delta z, quindi qual'è il volume, delta x, delta y, delta z, qual'è il volume di quella scatoletta? Lo volume di quella scatoletta, magari questa è la scatoletta iesima, è delta xy, delta yy, delta zy, molto semplice no? Questa è la delta yy, delta xy e delta zy. Quanta carica sta là dentro? Cos'è la rho? E' la densità volumetrica di carica, quindi che la carica che è qua dentro, la chiamiamo che so delta qy, la carica che è dentro la iesima scatola, è uguale alla rho calcolato nel punto, in questo punto qui, quindi chiamiamo questo il punto i, questo è un altro punto, attorno al punto j, metterò un'altra scatola, attorno a questo punto qui, metterò un'altra scatola, quindi io voglio capire quant'è la carica totale che c'è in questa spessa di tubero, ok? Quindi quanta carica c'è in questa scatolina? Ho il valore della d rho in quel punto dello spazio moltiplicato per questo. Qual'è la carica totale? è la somma, questa è una stima, si intende, è la somma delle cariche che stanno all'interno delle n scatoline, quindi questo è uguale alla sommatoria della rho i delta v i che va da 1 a n, quindi questa è una stima, prendo il mio tubero, la taglio con una coltella a fare tante, perché immaginiamo che questa sia una patata e volete fare patate al forno, quindi tagliate per fare dei cubetti o dei rettangoli, la forma che vi piace tanto e quindi la vostra patata è la composizione di tutti questi leggo, di questi volumetti, quindi il volume di ogni singolo volumetto moltiplicato per la carica che è in quel volumetto, la somma vi da la stima di quello che è lì come fate a fare la stima migliore? su cosa si basa la stima? si basa la stima sul fatto che qua io ho il volume, la suddivisione del tubero in volumetti non è quello incontenzioso io la divido in, ecco un volumetto, è una zoomata, ma io devo moltiplicarlo per il valore di questa funzione rho in un punto che è qua dentro quale punto? il punto proprio al centro, questo punto, questo punto, questo punto, qualsiasi punto, io ho un'infinità di scelte del punto x, y, z da associare all'iesimo volume e in quel punto io calcolo la rho e quel valore di rho per quel punto associato all'iesimo volumetto lo metto qui quindi ognuno di noi magari sceglierà un punto diverso all'interno di quel volumetto e scegliendo in maniera arbitraria quel punto userà il valore di rho in quel punto e lo scriverà qua quindi persone diverse sceglieranno diversamente il punto all'interno del volumetto e scriveranno quindi i valori di rho diversi e quindi le loro stime saranno diverse ma nel limite che il numero dei lego tende all'infinito in modo che ognuno di loro, il volume di ogni volumetto tende a zero, tutte queste differenze convergono verso un numero unico, ok? e quel numero unico unico si scrive così faccio spazio quindi questo converge verso un simbolo che dove la somma diventa una somma sui volumetti quindi sommo sui volumetti ma siccome il volumetto in ultima analisi è una delta x, delta y, delta x sto sommando su, vedete che il simbolo che uso sono tre è un'integrale triplo, è un segno di tre integrazioni perché mi ricordo che io in realtà sto integrando sia in x che in y che in z quindi questo mi diventa per l'appunto dx, y, z come ho scritto là però vado in modo più snello adesso e questo diventa l'integrale, ok? la rho nel punto x, y, z ok? e io esaurisco l'integro su x in modo da esaurire la coordinata x di questo oggetto poi integro su y in modo da esaurire l'estensione y di questo oggetto poi integro in z per esaurire l'estensione z di questo oggetto quindi questo sto integrando in x, in y e in z fino ad esaurire tutto il mio volume quello è la rho, d'accordo? non c'è niente da curva da aver paura in questi simboli sta semplicemente ricordando che in ultima analisi la carica è la somma delle cariche racchiuse dentro tanti volumetti quanta carica è in uno dei volumetti? è il volume del volumetto moltiplicato per la densità di carica in quella zona dello spazio molto semplice facciamo qualche semplice esempio immaginate che la rho che a priori dipenda x, y e z in realtà dipenda x, che so, facciamo la rho che sia una costante questa è la più banale, non vi pare? allora immaginate x, una sfera di raggio r centrata all'origine e io vi chiedo che la densità di carica in questa sfera è costante e vale rho intanto che dimensione ha rho? è evidente? che se questa è la densità di carica la dimensione di rho è una carica quindi mettiamo che so q, per il simbolo di carica diviso una lunghezza al cubo in modo che quando moltiplico questo per un volume io abbia una carica d'accordo? la densità di carica che dimensione ha? se è una densità di tipo volumetrica poi nel corso delle lezioni faremo ogni tanto qualche esercizio dove la densità di carica è anche di superficie quindi avrò una certa quantità di carica al metro quadrato o sarà una densità di tipo lineare avrò una certa quantità di carica al metro qua sto parlando di densità volumetrica uso il simbolo rho quindi una certa quantità di carica al metro cubo Quanta carica è in questa sfera? è banale, non vi pare? è molto semplice perchè dovreste essere in grado di dirlo anche voi che questo è uguale a rho zero per il volume della sfera senza tanti problemi qual è il volume della sfera? qualcuno? ok? molto semplice, non vi pare? questa è una puttanata supponiamo adesso che la rho non sia costante che non lo sia questo è il caso in cui sia costante è molto semplice uno potrebbe usare questa notazione molto sofisticata e fa una cosa del genere no? anzi è forse il caso di farlo così voi vi abituate prima a non spaventarvi di contare queste formule e a ragionare stiamo dicendo che la carica all'interno di un volume la carica racchiusa da un volume quella che appare nella legge di Gauss sta dicendo che il flusso è uguale il flusso del campo elettrico è 1 su y0 per la carica interna e quant'è la carica interna? la carica interna è questa quindi io vi chiedo qual'è il flusso del campo elettrico attraverso la superficie di quella sfera dipende dalla carica che era chiusa dalla sfera quant'è la carica interna sulla sfera? uno fa una cosa del genere e poi dice io sto integrando in x, y, z una funzione che è il triore di x, y, z ma la funzione in realtà non dipende da x, y, z quindi cosa faccio? porto la rho fuori dal simbolo integrale e mi limito a integrare x, y, z sulla mia forma geometrica ma questo cos'è? questo è proprio il volume, no? è il volume della zona racchiusa dalla superficie S e quindi il volume della sfera ecco fatto, ok? ma facciamo un caso più complicato dove la rho dipende che so dalla distanza del punto dall'origine dove la rho è uguale a x quadro più y quadro più z quadro radice quindi in questo punto la densità facciamo un disegno vabbè questo è un po' prospettico perché vedete che ho gli assi x, y, z questo punto che ha una certa distanza dall'origine il valore è diverso il valore di rho è diverso da un punto che è qui che ha una distanza maggiore è diverso dal valore di rho che è qua che ha una distanza più vicina quindi facciamo un caso in cui la densità di carica è distribuita in maniera con una simmetria sferica tutti i punti che hanno la stessa distanza dal centro hanno lo stesso valore di rho vedete? tutti i punti che hanno la stessa distanza dall'origine avranno lo stesso valore di rho quindi è una distribuzione con simmetria sferica quindi adesso l'esercizio consisterà di immaginare diverse dipendenze dalla distanza d'accordo? immaginiamo una dipendenza di questo tipo che è la rho dipenda dalla distanza dal centro della sfera facciamo un andamento lineare A è un numero che ha opportune dimensioni rho è una carica per unità di volume quindi A deve avere dimensioni tali che moltiplicandolo per una lunghezza vi dia la dimensione giusta quindi immaginate che A sia un valore costante e per R quindi questa è la mia funzione la scrivo così come farebbe un matematico farei per R minore o uguale di R maiuscolo che è il raggio della sfera rho vale AR e per R maggiore di R rho vale 0 questa è la mia funzione sto dicendo come dipende la densità ricarica in funzione della distanza dal centro della sfera cresce linearmente fino al raggio R maiuscolo della sfera poi fuori dalla sfera non c'è carica quindi rho uguale a 0 quella è la funzione calcolare dunque la carica che è dentro la sfera la carica che apparirebbe nell'equazione della legge di Gauss cioè il flusso del campo elettico è uguale a R e Y carica interna ma quant'è la carica interna? prima devo fiaccolare questo prima di dire cos'è il flusso allora mi devo arrotolare le manche e devo pensare no? come fareste voi? meccanici? qualcuno ha un'idea? immaginate la sfera come una cipolla come si chiama in italiano? e considerate tutti i punti che hanno la stessa distanza dall'origine c'è la stessa densità di carica quindi immaginate tutti questi punti che hanno la stessa distanza dall'origine e immaginate quindi dividere la vostra sfera come una cipolla come si chiama in italiano? oddio che lapsus no? sono strati vi ricordate che nel contesto del disco quando calcolavamo il momento di inerzia del disco quelli erano corone circolari questi invece sono qual'è l'espressione? sono dei gusci sferici chiamiamoli così ok? gusci sferici o sferici quindi tutti i punti qua all'interno di questo guscio sferico hanno più o meno notate il mio gesto e le parole hanno più o meno la stessa distanza quindi faccio una stima cosa faccio? la mia stima della carica interna a questa teletra sfera faccio una stima e sommo sui gusci sferici sto sommando sui gusci gusci sferici divido quindi in n gusci sferici come la cipolla c'è quella più interna e quella più esterna e mi chiedo quanta carica c'è nell'iesimo guscio? una volta che so quello sommo la carica sui gusci io ottengo una buona stima poi per avere una stima migliore cosa faccio? faccio gusci più sottili e quindi più numerosi e la mia stima migliore quindi il mio compito adesso è di scrivere questo quindi la carica nell'iesimo guscio cos'è? è il volume dell'iesimo guscio quindi la scrivo così il volume iesimo di chi? dell'iesimo guscio perchè questa è la carica nel guscio carica nel come si scrive? iesimo guscio e questo è il volume dell'iesimo guscio e devo moltiplicarlo per il valore di rho della densità di carica che io associo all'iesimo guscio ma il valore di rho che io associo all'iesimo guscio dipende dalla distanza del guscio dall'origine giusto? quindi la rho che io associo qua la rho dell'iesimo guscio è data dalla distanza quindi questo è facile questo è uguale ad A per la distanza dell'iesimo guscio questo è questo qua ma qual'è la distanza? bisogna intenderci no? quale distanza la uso? uso la distanza dalla faccia interna dalla superficie esterna da un punto magari esattamente ognuno di noi sceglierà un valore diverso di rho scusate di rho perchè? perchè la distanza che lui associa all'iesimo guscio lui decide in modo arbitrario come assegnarlo quindi le stime che noi scriveremo saranno diverse però tenderanno a un valore comune quando lo spessore del guscio tende a 0 perchè ho un numero arbitralemento grande di gusci quindi questa è la stima quindi questo rappresenta la distanza di iesimo guscio ognuno di noi l'associerà in suo modo questo è il volume di iesimo guscio e qual'è il volume di iesimo guscio? allora di nuovo uno fa qualcosa quello che sto facendo dovrebbe essere un ripasso dovrebbe essere un ripasso dovete notare le analogie con le cose fatte già in passato si è roba in più ma è anche roba che assoglia tantissimo a cose già fatte quindi in realtà ognuno di queste cose deve essere un'opportunità di ripassare cosa scriverò qua? cos'è questo? allora il volume è una funzione di una sfera volume sfera è una funzione del raggio e l'abbiamo scritto qui qual'è la derivata di v rispetto ad r? cos'è? è 4pi greco r quadrato quindi il differenziale è uguale a 4pi greco r quadro r quindi una buona stima del volume del guscio è questo quello è quello che scrivono la quindi dico che il volume del guscio è il suo spessore moltiplicato per la superficie del guscio 4pi greco r quadro è la superficie quindi qui scrivo 4pi greco r quadro qual'è r? ri no? qualunque questo sia la distanza dall'estremo interno dallo superficie qualunque voi scegliate questo è 4pi greco ri al quadrato per lo spessore dell'iesimo guscio ok? e quindi scrivo sommatoria di A guardate le Ri ho 1 qua e 2 qua quindi ho Ri al cubo a e 4pi greco è comune a tutti gli addendi di questa somma proprietà distributiva capo metto fuori 4pi greco a per la somma di Ri al cubo ok? quindi questo spessore qua è quello che io chiamo delta Ri ok? questo è Ri e mi sto chiedendo quanto volume è qua dentro? è lo spessore della superficie in ultima analisi questo risultato qua non mi deve stupire guardate come l'ho ottenuto derivata differenziale stima se non mi credete che questa è una buona stima ovviamente continuiamo così arriviamo qua non ho abbastanza spazio perché c'è la mensola quindi avrò 4pi greco a nel limite nel limite che il numero dei gusci tende a n tende a infinito e lo spessore dei gusci tende a 0 però quella roba la quella somma io la scrivo come un integrale quindi ho 4pi greco l'integrale su cosa sto integrando? su R e l'integrando cos'è? R cubo e quali sono gli estremi di integrazione? perché ho il guscio più interno e ho il guscio più esterno quindi da 0 a R in dr r cubo e quindi cos'è questo? questo è 4pi greco per A R alla quarta diviso 4 ok? e quindi c'è la roda qualche parte ho dimenticato la eccola la A la A quindi questo è pi greco A A R alla quarta d'accordo? quella A dobbiamo chiedersi se abbiamo questa è la matematica semplice prima di consegnare il compito forse è il caso di fare un'analisi dimensionale per accertarsi di non aver fatto uno sbaglio cioè questa cosa qua che abbiamo appena calcolato ha la pretesa di essere la carica la carica racchiusa da quella sfera con la carica distribuita in maniera che cresce linearmente con la distanza questa è la nostra risposta ma prima di cantare vittoria dobbiamo accertarsi che noi abbiamo commesso qualche grossolano errore facendo un'analisi dimensionale quindi la A che dimensioni ha? la A che dimensioni ha? coraggio vedete che la A moltiplicato per una lunghezza deve essere una densità di carica quindi la A è una densità di carica diviso una lunghezza questo d'accordo quindi è la dimensione di Rho diviso una lunghezza ma Rho cos'è? Rho cos'è? Rho è qualcosa che ha la dimensione di una carica diviso un volume quindi questo qui è una carica diviso un volume diviso un altro quindi le dimensioni di A è una carica per una lunghezza alla meno 4 quindi in effetti vedo che quando lo moltiplico per una lunghezza alla 4 ho qualcosa che ha la dimensione di una carica quindi dimensionalmente non ho fatto errori vedete il ragionamento? è una verifica che devo fare perché gli integrali fate presto sbagliarle non ve le ricordate e abbiamo verificato che le dimensioni di A sono proprio quelle che servono per dare le dimensioni di A che abbiamo ottenuto dove è la formula? eccolo qua questo è come era definita la densità di carica questa era la A quindi le dimensioni di A sono queste andando qua giù mettendole qua moltiplicandole in effetti avete una carica d'accordo? chiaro? cosa potrebbe succedere se la funzione fosse stata diversa? che so se avessero una dipendenza diversa? voi cosa fate? cosa cambia l'esercizio? cambia qui no? facciamo una breve pausa non dovreste essere scioccati